Sempre da millenni gli uomini anegano ad un incontro, quale con chi gli umani e i popoli hanno sciamato, sciamano, le vie di tutti i continenti per incontrarsi. E il tema è suggestivo, che si incontreranno, qui ci incontriamo. Ci incontriamo tutti con i nostri problemi, ci incontriamo tutti, ma questo incontro deve essere il punto di prima, più grande, più bello, più buono, più sano, più forte, più più grande, più grande, più grande buono, più sagge burale. Tutte le parole usco davanti ai vostri occhi di qualità d'amore e le nostre, una nozze profonda e divina. In alto ci sono le stelle, tremolanti, retaghe poste in messaggio di uno di una realtà stupenda. In una piccola groca, plente da luce, è nato di luce. Ma Gesù non è soltanto il colore giambo, verde, rocco. Entra nel colore, nel colore viola. Entra nel tormento dell'uomo, nel tormento più profondo. Bianco sciato, diciamo che luce. Perché così, queste veglute si prigionano da questo giudice collocati in piedi. No, sulla tenda. Perché è collocato sulla masca di bambini. Mi sono...